Per concorso in detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti 13 ordinanze di custodia cautelare in carcere, una delle quali nei confronti di un minorenne all'epoca dei fatti sono state eseguite oggi fra San Marzano di San Giuseppe, Sava e Grottaglie dai carabinieri del nucleo investigativo del reparto operativo del comando provinciale di Taranto coadiuvati dai militari delle compagnie dipendenti con il supporto di un elicottero del sesto elinucleo di Bari Palese ed unità cinofile antidroga del nucleo di Modugno. Nel carcere di Via Magli sono finiti i fratelli Angelo e Francesco Soloperto di San Marzano rispettivamente di 52-50 anni, Gianfranco Soloperto figlio 24enne di Francesco che rivestiva un ruolo fondamentale per l'approvvigionamento, il trasporto e la vendita della droga suo cugino Francesco Soloperto detto Checco 28enne, Graziano Antonucci 36enne il pluri pregiudicato Raffaele Carriero 56enne, Cataldo Catapano 33enne, zio di Gianfranco Tonia Cotugno 25enne, Maria Teresa Capriuli 30enne, Marco D'Adamo 28enne, Giuseppe e William Vozza rispettivamente 21enne e 22enne ed il minore ristretto nel carcere minorile di Bari. Le due donne arrestate erano incaricate di nascondere lo stupefacente oltre che della vendita al dettaglio e della raccolta dei proventi. Per la droga erano utilizzati termini convenzionali come AP, PCB, Diamante o Mercedes. I provvedimenti sono stati emessi dal GIP del Tribunale Ionico Paola in calza su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica di Taranto Ida Perrone. Per il minore l'ordinanza è stata emessa dal GIP del Tribunale per i minorenni di Taranto Paola Ferrara su richiesta del procuratore capo per i minorenni Antonella Montanaro. L'operazione è stata denominata ZAR prendendo spunto da come amava definirsi Gianfranco Soloperto nella sua supremazia nel controllo dell'attività di spaccio fra i comuni del Tarantino e Francavilla Fontana. Nel corso delle perquisizioni sono state sequestrate diverse quantità di hashish e marijuana oltre alla somma di 2.555 euro nell'abitazione di Checco Soloperto.